Ben trovati, onore all'Italia, all'Italia calcistica e all'Italia salentina che sta segnando le tappe di una riscossa almeno nel mondo sportivo. Conte il Leccese, Pelle il Salentino di Monteroni che segna per la seconda volta e chiude la partita e ha chiuso le partite importanti di questo campionato europeo. Nel paradosso il campionato europeo sta marciando in modo parallelo a quello che potrebbe essere il futuro della comunità europea, della UE, perché se dagli europei esce fuori l'Inghilterra nelle scorse ore, domenica uscita fuori dall'Europa il Regno Unito, per cui stesso destino anche nel calcio. Speriamo che il destino invece sia inverso per la squadra nazionale italiana, perché in Europa la Germania schiaccia l'Italia. Speriamo in una riscossa di tutti i paesi della comunità europea stritolati dalla Francia e dalla Germania in primis, proprio sabato, con un risultato positivo per una squadra che in molti hanno calpestato, ancora di più proprio i salentini, non so se per invidia, per rabbia, certo i tifosi sono ancora arrabbiati con Antonio Conte quando esultò per il gol fatto a Lecce contro la squadra del Lecce quando era, di ritorno da un proprio infortunio, giocatore di punta del Juventus. Ma credo che debbano essere messi da parte i rancori, da casa, qualche tifoso dirà, ma sei zitto, la logica sportiva è completamente diversa. Posso anche, come dire, non condividerla, ma accettarla come posizione. Per ora, finalmente, l'orgoglio sta emergendo. E chi diceva che la nazionale italiana, dopo la partita dell'Irlanda, fosse una cattiva squadra, certo con l'Irlanda, come dire, abbiamo giocato con la squadra di Serie B rispetto a quella di ieri, si deve ricredere. Il punto è che non riusciamo a ricrederci invece sulla squadra italiana del governo che dovrebbe puntare i piedi su delle prospettive per l'Italia e per i paesi della comunità europea diverse per il futuro. Perché nessuno pone l'interrogativo su quelli che sono i trattati di Maastricht, che già qualcuno più di 15 anni fa mise in evidenza essere, come dire, la vera ghigliottina per l'Europa tutta e quindi anche per la nostra Italia. Allora, nella giornata ci saranno questi incontri trilaterali Francia-Germania-Italia, sabato ci sarà il bilaterale Italia-Germania per gli europei, auguriamoci che alcun politico sino ad ora assente dagli stadi francesi continui a essere non presente. Perché l'unica situazione in cui andò bene fu nell'82, tanti di noi erano realmente dei ragazzini, ma all'epoca chi ti fava Italia si chiamava Sandro Pertini e l'Italia vinse, vinse i campionati europei per piacere politici, rimanete lontani dagli stadi francesi perché sino ad ora è andata bene. Non vorrei, non vorremmo che la vostra presenza inquinasse, dopo aver inquinato l'economia perché non si fa rispettare nei riguardi della Germania, potesse inquinare anche il risultato calcistico di questi momenti così belli che danno orgoglio a chi crede in una nazione. Malgrado questa, sia calpestata da anni e anni di mala politica. A domani.